Doppio appuntamento domani ad Eboli per la giornata internazionale della memoria e dell'accoglienza. Un momento di riflessione che sarà celebrato attraverso mostre, incontri, dibattiti e coinvolgimento di scuole ed associazioni all'interno dell'auditorium di San Bartolomeo. L'appuntamento è fissato per le ore 10, quando la giornata si aprirà con l'inaugurazione della mostra di Giulia Monaco. Subito dopo, alle 11, incontro seminario con la partecipazione degli istituti scolastici sul tema Il confine crea lo straniero, accoglienza e integrazione, i fondamenti dell'Europa.